è buio è buio oppure potrei trovare un'arri di là e la luce vera provo a andare là no, secondo me se vai là e la luce in faccia non viene qualcosa domani c'è una febbre 40 ho già preso una spirina e poi ho sentito una febbre è bello Voi! 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 Tanti auguri a te! Voi! 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 Ate! Voi! Voi! Tanti augureren adesso le nepoix. È il volevo giverto il mio avevo!